La mia idea è che il serial killer è uno solo e che possa avere come riferimento fatti religiosi, ricorrenze religiosi. Devo dire che un identikit di questo tipo lo ha fatto il professor Francesco Bruno. E devo dire che tra tutti gli identikit, che poi ha una vaga, non precisa, ma vaga assonanza con l'identikit dell'FBI, ecco tra tutti mi hanno convinto questi due tipi di identikit, si tratta di un mostro, di un cittadino, i mostri non esistono, i mostri esistono nelle favole dei bambini, esistono persone più pericolose dei mostri delle favole dei bambini. Qui questo è un uomo pericolosissimo, un serial killer, malato, maniaco sessuale, colto, alto, agile, raffinato a suo modo, che cerca le vittime nei momenti giusti, che sfida l'autorità giudiziaria, altro che Pacciane, povero contadino, seppure furbo, di una intelligenza animalesca ma non di più.